Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Lungo la linea della metropolitana proseguono i lavori serali di rinnovo dei binari. Dalla domenica alla giovedì, dopo le 21, bus navetta al posto dei treni lungo l'intera tratta Anagnina-Battistini. Nelle serate del venerdì e del sabato invece il servizio è regolare, con le ultime corse dei treni dai capolinea a l'1.30 di notte. Proseguono anche i lavori serali lungo la ferrovia Romalido. In questo caso dal lunedì al venerdì, dopo le 21, bus navetta al posto dei treni lungo l'intera tratta Porta San Paolo-Colombo.